Quasi 100.000 dosi di vaccino somministrate, primo in Abruzzo per inoculazioni delle terze dosi. Parliamo del Lab vaccinale dell'Asla di Teramo, allestito nei locali del Parco della Scienza, nel quartiere Teramano della Gammarana. Sono circa 1.500 i cittadini che ogni giorno vengono qui da tutta la provincia di Teramo. Sono davvero in tanti, ma le operazioni si svolgono con grande ordine grazie all'organizzazione messa in atto dagli operatori sanitari e dai volontari. responsabile del Lab, il dottor Dimitri Cagliacudas. Oggi è un giorno standard, come ieri, come sarà domani, quindi abbiamo prevalentemente, per non dire esclusivamente, i prenotati, perché sono tanti. Sono 1.500 prenotati ogni giorno. La notizia bellissima è che su 1.500 prenotati, vaccinate, scusatemi, siamo costantemente a oltre 200 prime dosi ogni giorno. Come mai si sono ricordati così tardi di farsi la prima dose? Non lo so. Forse il decreto, forse l'obbligo, forse il green pass, forse l'informazione. Tutto questo fa sì che abbiamo queste prime dosi. Quante linee vaccinali potete disporre qui al Parco della Scienza? Tre o quattro ogni giorno, dipende dalla fascia oraria, dalla flusso. Cosa consiglia agli utenti prima di venire a vaccinarsi? Allora, sottolineiamo sempre l'importanza della prenotazione, che agevola l'utente e agevola la nostra organizzazione. La nostra raccomandazione è scaricare dal nostro sito il modulo, compilarlo a casa, che poi abbrevia questo fatto moltissimo il tempo di permanenza all'interno del Lab. Raggiungere quella fascia di popolazione che finora non si è vaccinata è diventato l'obiettivo principale dell'Asla di Teramo, che in collaborazione con il Comune di Teramo, sabato prossimo 18 gennaio, svolgerà nel Lab del Parco della Scienza l'open night del vaccino, dalle 20 alle 24. In questa lunga giornata sarà possibile immunizzarsi presentandosi senza appuntamento. Saranno allestite sette linee dedicate a chiunque abbia superato i 12 anni di età. Sabato vaccineremo mattina e pomeriggio, come di solito, e poi andiamo avanti per un open night tra le 20 e le 24, tutte le età dai 12 anni in su. Senza prenotazione? Senza prenotazione sì.